La minoranza boccia senza appello il rendiconto di gestione dell'amministrazione comunale di Castellabate retta dal sindaco Costabile Spinelli. Inoltre due novità sono state richieste durante la seduta di consiglio dal capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo, il quale chiede di istituzionalizzare il question time e di prevedere la figura del presidente del consiglio per dare maggiore incisività, per dare maggiore democrazia e maggiore partecipazione al consiglio comunale. Una bocciatura senza appello non per chi si è all'opposizione per spirito di contraddizione o partito preso ma perché dalla visione di quei pochi atti contabili che ci sono stati forniti emerge un quadro totalmente negativo che anno dopo anno si ripete, anzi si accentua e tutto questo è dimostrato dalle tantissime sessioni di bilancio, dai tantissimi rendiconti promossi prodotti da questa amministrazione comunale e anno dopo anno riscontriamo con costanza dicevo le solite criticità che vanno sempre ad aumentare. Una mole elevata di crediti che il comune vanta ma non in cassa, un bassissimo tasso di riscossione, una scarsa liquidità con il conseguente ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa, al servizio tesoreria, alla banca alla quale ogni anno diamo circa 70.000 euro di soli interessi. Questi sono soltanto alcuni aspetti della bocciatura senza appello da parte della minoranza. Per quanto concerne il regolamento di polizia municipale c'è stato l'adeguamento alle nuove direttive ministeriali, alle nuove normative nazionali di un regolamento approvato nel passato 2010 e anche qui la minoranza con passione, con dedizione ha proposto, ha detto la sua rispetto a questo regolamento, all'incistitività che devi dare questo regolamento per quanto concerne la polizia edilizia, del commercio, a non aria, insomma tutto quello che è l'ufficio, il dovere di un comando di polizia municipale. Contestualmente abbiamo augurato alla neocomandante dottoressa Manola D'Amato di un buon lavoro nel solco della terzietà, della trasparenza, della legalità con un unico fine, quello di tutelare questo bellissimo e vastissimo territorio. Tutto questo è stato accompagnato da proposte molto importanti fatte dalla minoranza nel voto che intercorre appunto dall'approvazione dei verbali della seduta precedente all'ingresso vero e proprio nel Consiglio Comunale. Abbiamo chiesto di istituzionalizzare il question time e di prevedere la figura del Presidente del Consiglio Comunale. Quindi un cambio sostanziale del regolamento del Consiglio per istituzionalizzare, per integrare il regolamento stesso con queste due importanti novità. Quindi il question time, un dibattito serrato, franco tra maggioranza e minoranza rispetto alle interrogazioni, alle segnalazioni promosse e prodotte dalla minoranza e quindi sentire la voce degli assessori a ramo, dei consiglieri delegati, dello stesso sindaco e avere risposte certe nell'ambito di sedute monotematiche del Consiglio Comunale. Quindi un dibattito, una maggiore partecipazione, maggiore democrazia e trasparenza all'interno del Consiglio Comunale. Come anche la figura del Presidente che va in questa direzione, sgravando il Sindaco del doppio ruolo, dando al Consiglio Comunale terzi età, legalità, trasparenza e soprattutto con questa figura tentare di rilanciare il ruolo del Consiglio Comunale e farlo tornare al centro del dibattito politico-amministrativo del Comune di Castellabate. Ancora una volta la minoranza in un Consiglio Comunale dà le sue indicazioni, fa le sue proposte semplicemente ed esclusivamente per il bene di questo territorio.